Buongiorno, breve aggiornamento sul traffico, viabilità fortemente condizionata dal maltempo soprattutto al nord sulle strade della Val d'Osta, sulla 21 Torino-Brescia, sulla 26 Genova-Greve-Leonatoce e sulla 12 Genova-Rosignano ma anche sulla 15 Parma-La Spezia. Come ti consueto monitoriamo in real time, le immagini ci giungono in diretta dallo svingo di stesso San Giovanni, come vedete si viaggia agevolmente senza nessuna difficoltà, scendiamo la diramazione di Roma Sud dove abbiamo un'analoga situazione, viabilità fluida. Inizio nelle comunicarvi che ci sono dei disagi sulla strada statale 148 Pontina per un incidente verificatosi tra Frosignano in direzione della Capitale, ci spostiamo sulla strada provinciale 601, anzio Ostia, perché ci sono delle code per un incidente in entrambe le direzioni e raggiungiamo la strada statale Cassa perché anche qui ci sono delle code motivate da un incidente in prossimità della Bracianese Nuova in direzione della Capitale e raggiungiamo il raccordo Salerno-Avellino per segnalarvi un incidente verificatosi in prossimità dell'uscita di Serino. Raccomandiamo prudenza soprattutto in caso di neve, partite equipaggiati di pneumatici invernali o catene e in caso di pioggia in questo momento sta piovendo sulla 1 tra Firenze e Roma, il limite di velocità ricordiamo scende da 130 a 110 anche se stiamo viaggiando su strada costituita da pavimentazione di asfalto drenante. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, linea a Rai News e prossimo aggiornamento alle 17.25. Arrivederci.